Io ringrazio il Presidente che mi pare abbia con sforzo di significativa preveggenza anticipato le domande più significative che suppongo mi sarebbero state poste e quindi proverò a dare risposta a tutte le domande che mi sono appena state formulate partendo proprio dalla considerazione dell'audizione del 15 aprile scorso e anche nel seguito del 28 maggio poiché ho dato il mio contributo all'indagine conoscitiva avviata da questo comitato per approfondire le problematiche connesse al massiccio flusso di migranti sul territorio nazionale e all'evolversi dei flussi migratori verso l'Europa. Premetto che stante la corposità delle domande e la mia volontà di essere esaustivo nelle risposte non credo che sarò brevissimo. Lo dico perché alcuni colleghi prima dell'avvio dell'audizione mi hanno con cortesia preavvisato di altri impegni al Senato per cui non potranno essere presenti e a me dispiace che non lo siano e comunque vado a illustrare quello che ho in mente di dire. Nelle due occasioni proprio qui in questo comitato ho delineato un quadro delle politiche nazionali portate avanti in ordine ai temi delle migrazioni in Europa, dei flussi migratori verso l'Europa. Si tratta di politiche ispirate al principio della solidarietà che non è diviso dalla inflessibilità sui fronti dell'immigrazione irregolare e del contrasto delle organizzazioni criminali dedicate alla tratta e al traffico di esseri umani. Nei giorni scorsi ho ricevuto l'invito del Presidente Ravetto a fornire questi ulteriori elementi conoscitivi e ho accettato volentieri e subito per l'importanza di mantenere un proficuo rapporto con le istituzioni parlamentari e il tempismo dell'audizione mi consente anche di ragguagliare questo comitato circa gli esiti dell'ultima seduta del Consiglio Gai in Lussemburgo, quello del 9 e il 10, che si è svolto in un clima di disponibilità ad affrontare i temi dell'immigrazione con una visione di maggiore respiro europeo e di apertura alle proposte dell'Italia. Tra tali conclusioni mi soffermo innanzitutto sul via libera dato dal Consiglio all'operazione Triton, che è un'operazione di Frontex. Quindi il primo risultato di quel Consiglio della Giustizia e Affari Interni è stata la deliberazione dell'operazione Triton, che è l'operazione di Frontex. Consentitemi di ascrivere questo risultato al tenace impegno del Governo italiano che ha saputo creare attenzione e consenso intorno alla propria proposta di una gestione rinforzata delle frontiere esterne dell'Unione e in particolare di quelle del Mediterraneo centrale da realizzarsi attraverso il consolidamento della presenza e la leadership dell'agenzia Frontex. Un'agenzia che viene opportunamente potenziata nelle sue capacità operative e nella sua dotazione finanziaria e altrettanto opportunamente sostenuta nella sua azione da parte degli Stati membri. A questo proposito vorrei aprire una breve parentesi perché ritengo che un indubbio effetto di rafforzamento dell'azione di Frontex stia nello spostamento del suo vertice operativo, come dicevamo alcuni mesi fa, nel cuore del Mediterraneo, poiché questo è un vero scenario del fenomeno migratorio e in particolare la nostra proposta è stata quella di aprirlo in Italia un centro operativo vista la baricentrica posizione del nostro Paese. I tentativi che si sono svolti durante il semestre di Presidenza hanno avuto il merito di porre la questione sul tappeto in maniera tale da gettare le basi e a questo siamo riusciti ad arrivare per quel consenso necessario a raggiungere il quorum, cioè un quarto degli Stati membri previsto ai fini della formalizzazione della proposta. Si tratta di una procedura complessa che difficilmente sarà portata a termine nell'arco del semestre italiano, ma la conclusione del turno di Presidenza non determinerà affatto l'abbandono del progetto che anzi troverà da parte nostra una forte e decisa spinta in proseguo, ripeto, perché prima c'è da costruire la maggioranza, un quorum qualificato per poter formulare formalmente la proposta, cioè un quarto degli Stati membri. L'operazione di Frontex avrà inizio il primo novembre e i suoi assetti aereo-navali si dispiegheranno nel Mediterraneo e da quel momento opereranno sulla base dell'operational plan redatto da Frontex ed intesa con la Commissione Europea e i Paesi interessati, con la indicazione di tutte le caratteristiche dell'operazione, compresi i suoi costi quantificati in circa 3 milioni di euro mensili, ossia in meno di un terzo di quanto è costata Mare Nostrum e 3 milioni di euro non certo pagati solo dall'Italia. La regia unitaria della nuova missione europea che assorbirà quelle già in atto, cioè Eneas ed Hermes, sarà affidata, come dicevamo, all'agenzia Frontex e per l'espletamento del mandato l'agenzia riceverà dall'Unione Europea uno stanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e si avvarrà del centro di coordinamento internazionale istituito a pratica di mare presso il comando aereo-navale della Guardia di Finanza, dove saranno distaccati i rappresentanti della stessa agenzia e di tutti i Paesi partecipanti. Questo mi serve per dire che non abbiamo lavorato del tutto in vano per la sede di Frontex in Italia, cioè abbiamo posto le basi politiche per formulare la proposta, ma al tempo stesso sul piano operativo noi avremo un coordinamento che sarà in Italia, cioè la operazione di Frontex avrà un centro di coordinamento internazionale a pratica di mare. Questo mi sembra di già un risultato molto importante perché pone in Italia il luogo da cui si coordineranno le operazioni. Anche in ragione del vasto raggio di azione che comprenderà l'intero Mediterraneo centrale e lo Ionio, la operazione di Frontex richiederà la più ampia partecipazione di Stati membri. Abbiamo ottenuto un eccellente risultato, veramente eccellente, perché a parte l'Italia vi sono altri 18 Paesi che hanno dato la loro disponibilità e non è neanche escluso che tali numeri aumentino, ma già ora questi danno, questi numeri danno la dimensione della più grande e partecipata operazione di controllo delle frontiere messa mai in campo dall'Unione Europea, a maggior ragione in quello scenario che è lo scenario del Mediterraneo. Alcuni Paesi hanno messo a disposizione assetti aerei o navali e altri Paesi hanno contribuito con i propri esperti. Non mancherà il contributo italiano perché il nostro Paese metterà a disposizione un aereo, un pattugliatore d'altura e due pattugliatori costieri. Questo in questo momento è il panel degli Stati partecipanti e dei dispositivi su cui potrà contare l'operazione guidata da Frontex. I Paesi sono la Spagna, il Portogallo, l'Islanda, la Finlandia, Malta, Olanda, Lettonia, Francia, Austria, Belgio, Estonia, Germania, Polonia, Romania, Slovenia, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Nei giorni scorsi sono circolati imprecisi accostamenti tra l'operazione Mare Nostrum e la missione che svolge Frontex. Innanzitutto voglio dire subito che Mare Nostrum andrà a conclusione e la decisione sarà formalmente assunta in uno dei prossimi Consigli dei Ministri, così come da me concordato con il Presidente del Consiglio. Si tratta non di un cambio di nome, come qualcuno ha detto in modo gravemente errato, perché si tratta di due missioni completamente distinte. La prima distinzione è racchiusa già nella domanda della Presidente Ravetto. Questa missione opera al confine delle acque territoriali, cioè Schengen, ossia 30 miglia dalle coste italiane e l'altra missione arrivava in prossimità reale delle coste nordafricane. Quindi questa è un'enorme differenza che dà una risposta chiara a chi diceva che l'operazione Mare Nostrum potesse essere considerata un pull factor, cioè un fattore di attrazione di migranti per il fatto che si avvicinava lì. Chi era di questa idea adesso non può che riconoscere che se fosse vera la tesi d'accusa sarebbe smontato esattamente tutto ciò che è stato detto fin qui, cioè non arrivando fino alla prossimità delle coste nordafricane viene meno l'accusa di operare azioni di attrazione da pull factor come quelle che venivano accusate, veniva detto che fosse il vero limite e la gravità in negativo dell'azione di Mare Nostrum da parte dei suoi detrattori. Inoltre, come è fin troppo evidente, l'operazione di Frontex denominata Triton è un'operazione decisa, portata avanti e finanziata dalla Unione Europea e con una governance complessiva assicurata dall'agenzia di Frontex, e cioè ancora una volta da un organismo della stessa Unione Europea. Viceversa, Mare Nostrum è nata da una decisione italiana, è stata condotta dall'Italia, finanziata dall'Italia ed è stata fatta per dare una risposta emergenziale al gravissimo problema umanitario manifestatosi tragicamente con la sciagura di Lampedusa sotto i nostri occhi e a poche migliaia di distanza dal nostro territorio e quindi al tempo coinvolgendo l'Italia, anche emotivamente, in misura maggiore rispetto agli altri paesi europei. Non cogliere queste differenze porta all'errore di ritenere che le due operazioni possano considerarsi assimilabili, cosa che non è in modo assoluto. Mare Nostrum e Triton sono due cose che non sono paragonabili tra di loro perché l'operazione nuova di Frontex svolge un compito del tutto differente rispetto a quello di Mare Nostrum. Le risorse che il decreto legge che è stato contestato, il decreto legge degli stadi, ha riservato al settore della immigrazione, sono destinate non a rifinanziare il dispositivo di Mare Nostrum come è stato detto anche in Aula, cosa che peraltro non riguarderebbe specificamente il Ministero dell'Interno perché è prevalentemente a carico del bilancio della difesa, ma sono state destinate in realtà a rimpinguare i capitoli di spesa destinati all'accoglienza, cioè quei capitoli di spesa che servono rispetto a quelli che devono essere accolti nel nostro paese per non farli stare per strada e per non dare anche ai nostri concittadini l'impressione di un paese che abbia più migranti di quelli che in realtà vi siano. Dico questo con chiarezza perché ho sentito troppe cose non vere durante il dibattito riguardo il decreto legge sugli stadi. Anche le modalità operative delle due missioni sono diverse in ragione dei due diversi obiettivi. Quello di Frontex, come già stato annunciato, sarà quello cioè l'obiettivo della missione di Frontex nel Mediterraneo centrale, sarà di contrastare l'immigrazione clandestina e la tratta e il traffico di esseri umani. È logico dunque che nel corso di questa operazione Frontex debba rispettare i limiti e le procedure imposte dal regolamento 656 del 2014 che reca le norme a cui l'agenzia si deve attenere per la sorveglianza delle frontiere marittime, quelle esterne dell'Unione Europea. Vorrei anche precisare che proprio in base a questo regolamento l'attività di vigilanza in mare e dei mezzi di Triton non sarà passiva e di puro contenimento ma contemplerà ogni intervento utile anche in chiave dissuasiva, inclusi l'ispezione del natante, del carico e delle persone che vi sono a bordo, nonché il sequestro del mezzo e il fermo delle persone. Naturalmente la missione di Frontex all'occorrenza svolgerà anche attività di ricerca e soccorso di persone in pericolo conformemente non a questa missione ma al diritto internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali indipendentemente dalla cittadinanza, dalla situazione giuridica o dalle circostanze in cui si trovino le persone da soccorrere. Del resto anche il direttore di Frontex, Arias Fernandez, ha recentemente dichiarato e cito testualmente che la salvezza delle vite umane è considerata una assoluta priorità per la nostra agenzia e che tale rimarrà anche nel corso di Triton, analogamente del resto a tutte le operazioni marittime condotte da quell'organismo. Non mi sfugge che dopo aver dato vita alla decisione di Triton, di Frontex, è stato posto il problema di un impegno maggiore. Questa missione, lo diceva da ultimo l'onorevole Presidente Ravetto, ha finito per coprire, cioè la missione Mare Nostrum ha finito per coprire, non potrebbero trovare risposta altrettanto efficace e pronta da parte della missione Frontex. E poi resterebbe aperto il problema dell'accoglienza di cui ha fatto cenno il Presidente Ravetto. A queste domande non si può che rispondere, e lo dico con grande chiarezza, in base alla normativa europea. Allora bisogna ricordare che questa normativa verrà applicata in questa operazione ed è informata al principio del non respingimento secondo il quale non è possibile rinviare le persone verso i Paesi terzi in cui esista un rischio grave per la loro sopravvivenza o incolumità. E siccome questa situazione riguarda in pratica tutti i Paesi rivieraschi da cui provengono effettivamente le imbarcazioni, ne deriva a termini di regolamento la necessaria riconduzione del natante verso lo Stato membro che ospita l'operazione. Devo ricordare ancora una volta che l'operazione di Frontex è nata con esclusive finalità di presidio delle frontiere e dunque non credo che si possa chiedere a questa operazione anche la soluzione del problema dell'accoglienza che riguarda invece altri temi che partono esattamente dal regolamento di Dublino. A questo riguardo è stata anche agitata la possibilità dell'attuazione della direttiva 55 del 2001 che prevede la ripartizione degli sfollati tra gli Stati membri nel caso di afflusso massiccio di stranieri da Paesi terzi. E vorrei ricordare che nemmeno, lo vorrei ricordare soprattutto agli amici della Lega, che nemmeno di fronte ai tragici fatti del 2011, della primavera araba, quando il ministro era il collega e amico Roberto Maroni della Lega, l'Unione Europea ritenne che vi fossero i presupposti per dare attuazione alla direttiva 55 del 2001 che riparte tra i vari Stati gli sfollati, cioè detto in soldoni, il cosiddetto burden sharing, neanche nel 2001 quando c'è stata la primavera araba, nel 2011 quando c'è stata la primavera araba è stato accolto dall'Unione Europea che infatti non dette seguito alle richieste svolte dall'allora ministro Maroni e da Malta che si ritrovarono da sole a sostenere, cioè Italia e Malta si ritrovarono da sole a sostenere queste richieste. Io non escludo che la questione possa essere riproposta in futuro superando una diffidenza europea che portò a considerare l'applicazione della direttiva come ostacolata dalla decisione del governo di concedere ai fuggiaschi la protezione umanitaria ai sensi della normativa italiana, mentre le due iniziative avrebbero ben potuto conciliarsi, probabilmente scorrere parallele. E posizioni altrettanto intransigenti e di chiusura hanno finito del resto con lo svuotare anche i compiti operativi dell'apposita task force istituita a livello europeo dopo i fatti di Lampedusa, la cui attività avrebbe potuto offrire un contributo ancora più ampio e incisivo ed è stata limitata in questa fase ad poche scelte, sebbene importanti, e ad un sostegno finanziario. E cioè la scelta della protezione umanitaria allora di fatto bloccò la possibilità di aprire un varco e uno spiraglio per il tema del burden sharing. Dunque, alla luce di tutti questi no, anche del recente passato, non vi deve apparire trionfalistico rivendicare il merito che ha avuto l'Italia nell'ottenere la concreta disponibilità dell'Europa ad impegnarsi direttamente nel controllo delle proprie frontiere esterne, perché è un risultato senza precedenti che sancisce un grande risultato politico anche, oltre che operativo. Ossia l'Europa riprende ad occuparsi delle proprie frontiere e lo fa cominciando dal Mediterraneo centrale. E quindi è un'Europa che attraverso Schengen ha cancellato le frontiere interne e con queste operazioni torna a presidiare più efficacemente le frontiere esterne. È un dato politico importantissimo che invito tutti a non sottovalutare e non perché voglia fare i complimenti al governo o voglia specificamente riceverli, ma perché è un risultato al quale abbiamo lavorato a lungo e che è stato conseguito con grande tenacia. Pur nella discontinuità che l'operazione di Frontex rappresenta, sono dell'avviso che non saremmo, e anche questa vorrei che fosse colta come una considerazione politica, non saremmo riusciti a conseguire questo risultato se non ci fosse stata l'operazione Mare Nostrum. Cioè, oltre ai vari e alti meriti umanitari, credo che questa operazione, cioè Mare Nostrum, ha avuto il risultato politico di avere costretto l'Unione Europea ad uscire dal suo guscio e a misurarsi con un più concreto e operativo approccio alle questioni della frontiera e della migrazione nel Mediterraneo. In conclusione della parte dedicata all'operazione di Frontex vorrei spendere qualche parola in riferimento a quanto chiesto dal Presidente Ravetto e ovviamente per tutto quanto attiene il tema sanità bisognerà parlarne con il Ministro Lorenzin. Quello che io posso dire è che saranno mantenuti i tradizionali presidi di screening sanitario sui migranti effettuati a terra subito dopo gli sbarchi e prima del loro smistamento presso i vari centri governativi. Altro capitolo. La politica di rafforzamento della sorveglione, altro capitolo perché nella richiesta di audizione mi era stato posto anche il tema della vigilanza sull'attività di Europol di controllo e vigilanza della materia dell'immigrazione e quindi investiva tutto questo anche il tema del diritto d'asilo e altri temi fondamentali. E per cui la scelta di Frontex costituisce una prima significativa misura attuativa di rafforzamento della sorveglianza delle frontiere ma è solo uno dei punti cardine della nuova strategia europea di gestione dei flussi migratori che è stata delineata nelle conclusioni del Consiglio GAI di Lussemburgo e che è volta a superare l'approccio emergenziale che ha caratterizzato finora il settore. Quindi a questa scelta di presidio delle frontiere se ne affianca altri due di punti fondamentali, di punti cardine. Il miglioramento della cooperazione con i paesi terzi di origine e transito dei flussi e la piena attuazione del sistema comune europeo di asilo. In merito al primo punto rilevo quanto sia avvertita l'esigenza di ripristinare un dialogo politico globale con la Libia, attuale crocevia dei flussi migratori e rilevo anche come al momento si tratti sostanzialmente di una missione che con un generoso eufemismo potrei definire assai ardua, viste le condizioni di crescente instabilità in cui versa il Paese. Lo dico ai componenti di questo comitato come l'ho detto in Parlamento, cioè è bellissimo dichiarare sulle agenzie occorre ripristinare una discussione sulla Libia e io inviterei tutti quelli che fanno le agenzie dicendo ogni giorno che è facile risolvere il problema della migrazione in quanto è semplice e sufficiente fare un accordo con la Libia a entrare più nel merito e a darci qualche consiglio più specifico suggerendoci magari con chi parlare, ecco gradirei ricevere sulle agenzie qualche consiglio più mirato e più preciso da poter girare anche ai colleghi della difesa, anche ai colleghi degli esteri, insomma perché mi rendo conto quanto spesso sia facile dire ragionate con la Libia. Ringrazio frequentemente io quando leggo le agenzie per l'intuizione ma la vorrei ulteriormente precisata. A parte la pur basilare questione libica le conclusioni del Consiglio indicano un'articolata serie di iniziative da adottare in cooperazione con gli stati terzi, cito quelle più significative quali l'individuazione insieme alle autorità tunisine, egiziane e appunto a quelle libiche di eventuali modi per limitare l'acquisizione di navi da parte dei trafficanti, la collaborazione di polizia per lo smantellamento delle reti di traffico, il sostegno allo sforzo profuso dai paesi terzi per incrementare la capacità di gestire le proprie frontiere e i propri flussi migratori e di prestare assistenza ai rimpatriati, l'intensificazione dell'uso delle azioni congiunte dell'Unione Europea nel settore dei rimpatri, in particolare sotto il coordinamento di Frontex. Ciascuna di queste misure è una misura specifica che avrà un seguito a livello europeo. Si tratta di misure di indubbia validità che possono certamente condurre ad un efficace contenimento della pressione migratoria. L'Italia da questo punto di vista è in prima linea da sempre avendo privilegiato la sottoscrizione di accordi di questo tipo, in particolare con i paesi del Nord Africa, Tunisia, Libia ed Egitto e dell'Africa subsahariana, cioè il Niger, la Nigeria e il Gambia e nell'intento di attuare specifici programmi di assistenza tecnica a beneficio delle forze di polizia di quegli stati. In tale ambito il Governo riconnette fondamentale importanza anche allo sviluppo dei partenariati di mobilità, dei programmi di protezione regionale e dei processi regionali, strumenti indispensabili a portare l'azione dell'Europa direttamente nelle aree di origine del fenomeno migratorio. In proposito informo che in aggiunta ai partenariati con il Marocco e la Tunisia, già operativi, è stato firmato a margine proprio dell'ultimo Consiglio di Giustizia e Affari Interni di Lussemburgo anche un partenariato con la Giordania. Perciò che attiene ai processi regionali un ulteriore impulso potrà avvenire dalla quarta conferenza ministeriale euro-africana su migrazione e sviluppo che l'Italia ospiterà a Roma il prossimo 27 novembre nel quadro del processo di Rabat, e cioè un foro di dialogo tra l'Unione Europea e i Paesi dell'Africa Occidentale, Centrale e Mediterranea sui temi migratori. Il Governo italiano sta inoltre promuovendo l'avvio e lo sviluppo del processo di Khartoum, analogo foro di dialogo, stavolta con i Paesi dell'Africa Orientale. È in questo ambito collaborativo che potrà essere ulteriormente sondata la possibile apertura di corridoi umanitari, la cui praticabilità sembra oggi particolarmente complicata a causa delle conflittuali condizioni geopolitiche e dall'assenza di interlocutori affidabili. Inoltre, riaffiorano anche su questo tema rigidità europee prevalentemente espresse dai Paesi del Nord Europa, preoccupati che uno screening effettuato nei Paesi di origine dei richiedenti protezione porterebbe a conseguenze per loro meno favorevoli rispetto all'attuale applicazione del principio di Dublino. Ho appena detto una cosa molto significativa, ritengo. Vengo ora al terzo asse, cioè quello dell'attuazione del sistema comune europeo di asilo. In proposito, le conclusioni del recente Consiglio di Giustizia e Affari Interni contengono due indirizzi precisi agli Stati membri, diretti da un lato all'intensificazione delle attività di identificazione dei migranti, dall'altro alla costruzione di sistemi di accoglienza flessibili in grado di rispondere ai flussi migratori improvvisi. Nessuna delle due sollecitazioni, né quella che riguardi l'intensificazione delle attività di identificazione, né anche quella che riguarda l'accoglienza di flussi improvvisi, trova l'Italia impreparata. Anzi, abbiamo richiamato di già l'attenzione dei questori sull'esigenza di curare il fotosegnalamento dei migranti, nonché la registrazione e la raccolta delle loro impronte, e ciò anche al fine di contrastare i tentativi di aggirare il sistema Eurodac perpetrati dalle reti dei trafficanti. Reti dei trafficanti che noi abbiamo duramente contrastato e sono già arrivati a circa 700 gli scafisti arrestati nell'ultimo anno e mezzo. Si tratta di un risultato importante, anche questo connesso ad un'azione delle nostre forze dell'ordine, delle forze di polizia, di tutti coloro i quali stanno in mare, che io ringrazio di vero cuore. Inoltre, oltre appunto all'identificazione, il migrante viene informato delle conseguenze anche penali che può determinare la sua opposizione alle attività di identificazione, ricordandogli che in base alle norme del nostro codice è possibile punire l'alterazione fraudolenta di parti del proprio corpo, compiute con questo specifico dolo. Prassi, come è noto, particolarmente in valsa tra i migranti, cioè abbradere le impronte digitali e operare delle azioni che appunto implichino un'alterazione del proprio corpo. Nella stessa ottica di attenzione al contrasto degli interessi criminali si colloca anche l'operazione Mos Majorum che si sta svolgendo con il coordinamento italiano e il contributo di Frontex e che è destinata a concludersi tra qualche giorno. L'iniziativa che coinvolge varie polizie europee è finalizzata a mettere sotto la lente i punti di passaggio per così dire caldi delle frontiere esterne e i movimenti secondari, quelli cioè che avvengono all'interno degli Stati membri con l'obiettivo di monitorare nell'area Schengen i flussi di transito dell'immigrazione clandestina. L'operazione, del tutto analoga a quelle pianificate dagli altri Stati membri nel loro turno di presidenza dell'Unione Europea, è finalizzata in particolare a ottenere una migliore conoscenza e una mappatura delle attività di trafficking che ricostruisca le rotte seguite dalle organizzazioni criminali, i mezzi di trasporto utilizzati e i principali luoghi di rintraccio. Quanto al secondo versante del sistema comune europeo di asilo, l'intensità e la frequenza incalzante degli sbarchi ci avevano già indotto a ripensare l'intero sistema dell'accoglienza in modo da collocarlo al di fuori della logica emergenziale degli ultimi dieci anni. Dal marzo 2002 al dicembre 2012, infatti, l'Italia aveva gestito gli eccezionali flussi migratori con gli strumenti propri della protezione civile e cioè con ordinanze di necessità e urgenza previa dichiarazione dello Stato di emergenza. L'impegno profuso per la riorganizzazione del sistema di accoglienza ha condotto alla elaborazione di intesa tra governo e regioni e autonomie locali di un piano operativo nazionale sul quale la conferenza unificata ha sancito l'intesa proprio nella seduta dello scorso 10 luglio. La portata innovativa del piano sta nel fatto che la gestione dei flussi acquisisce la connotazione di attività ordinaria, strutturata e programmabile fondata sul metodo dell'accordo tra lo Stato e il mondo delle autonomie territoriali espressamente definito a sua volta come metodo ordinario, cioè l'accordo diventa il metodo ordinario così come richiesto da alcuni presidenti di regione a cominciare dal presidente Maroni. Il piano distingue l'accoglienza in tre fasi organizzate in maniera tale da consentire il rapido passaggio dall'una all'altra. La prima fase che è la fase del soccorso e della prima assistenza attuata in appositi centri governativi ubicati nelle regioni di sbarco o limitrofe nei quali il periodo di permanenza sarà estremamente contenuto al fine di garantire il massimo del turnover delle presenze. La fase della prima accoglienza e qualificazione che è da attuare per periodi di tempo limitati in una struttura governativa concepita come base logistica ampia di livello regionale o interregionale dove avverrà tra l'altro la selezione tra gli aventi diritto all'asilo e quelli che non ne hanno titolo e ove si sia conclusa, cioè in questi centri, la relativa procedura. La terza fase sarà la fase della seconda accoglienza, scusando il gioco di parole, della seconda accoglienza e della integrazione ed è realizzata attraverso lo SPRAR, cioè il sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati, gestito come è noto dagli enti locali con la regia unitaria del Ministero dell'Interno e lo SPRAR viene confermato come sistema unico di accoglienza di secondo livello. Il motore di questa macchina complessa rimane il Ministero dell'Interno che per la ripartizione dei migranti sul territorio nazionale e l'organizzazione delle altre misure previste dal piano si avvale del supporto e delle indicazioni del tavolo di coordinamento nazionale a cui partecipano le amministrazioni statali interessate, la conferenza delle regioni, lupi e lanci e analogamente il prefetto del comune capoluogo di regione attiva e presiede tavoli di coordinamento regionali aventi il compito di realizzare a livello locale le strategie operative definite dal tavolo nazionale. Oltre a riformare il sistema dell'accoglienza abbiamo posto le basi anche per il suo potenziamento attraverso finanziamenti che per l'anno 2014 ammontano a 113 milioni di euro e a regime a circa 187 milioni di euro questi ultimi stanziati con il disegno di legge di stabilità appena approvato dal Consiglio dei Ministri. Il riferimento alla prossima legge di stabilità mi offre anche l'occasione per darvi un'informazione su un tema che è stato oggetto di una grande attenzione in sedi varie tra cui in primis quella parlamentare. La legge di stabilità infatti contiene una soluzione appropriata all'annoso problema dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale e si prevede che i minori stranieri non accompagnati anche se non richiedenti asilo siano accolti nello Sprar. Poiché lo Sprar è il vero fioro all'occhiello delle politiche nazionali di accoglienza dei rifugiati e riteniamo che sia il luogo idoneo dove accogliere i minori. Contestualmente presso il Ministero dell'Interno è stato istituito un fondo che sarà destinato ad essi con la soppressione del fondo attualmente previsto presso il Ministero del Lavoro. Rimanendo in tema non sfugge a nessuno come la vera sfida stia in una rivisitazione profonda delle politiche dell'Europa in materia di asilo. Una politica basata sull'idea di fondo che occuparsi dell'accoglienza sia un preciso compito dell'Europa. Un'Europa vista come soggetto politico istituzionale e che prende il posto nel suo insieme di ciascun singolo Paese. Cioè in sostanza ottenuto l'avvio della missione di Frontex. L'obiettivo che adesso noi avremo è quello di concentrare gli sforzi sulla modifica o quantomeno l'attenuazione del principio base del regolamento di Dublino che limita l'ambito di radicamento del richiedente asilo allo stato di primo approdo. Un principio di cui ho avuto modo di rappresentare più volte una sorta di iniquità sia nei confronti dei richiedenti asilo e dei rifugiati che sono menomati nei loro diritti aspettative di vita familiare, sociale e lavorativa, sia nei confronti di quegli Stati membri che sono frontiera esterna dell'Unione e che, come l'Italia, su cui finiscono per riversarsi in esclusiva gli oneri dell'accoglienza. Per la verità il superamento di questo principio è da tempo all'attenzione del nostro Governo come di quelli che lo hanno preceduto e che non sono riusciti a cambiare la filosofia di fondo del regolamento di Dublino. Il tema l'abbiamo posto sempre in tutte le sedi istituzionali. Consapevoli della netta contrarietà della larga maggioranza dei Paesi membri alla sua eliminazione to cure, nel programma del semestre di presidenza italiana abbiamo prospettato un'applicazione flessibile del regolamento di Dublino che tenga conto, ai fini della determinazione dello Stato competente, di fattori familiari e mi riferisco ai ricongiungimenti e anche degli interessi dei minori. Inoltre abbiamo messo in campo la proposta del mutuo riconoscimento della decisione di asilo, a suo tempo elaborata proprio dalla Commissione europea e all'occorrenza siamo pronti a sottoporre al vaglio dell'Unione europea anche altre misure quali l'esame congiunto delle domande di asilo e il pooling delle strutture di accoglienza. La partita è difficile, la partita è ardua, ma la partita è aperta. Io non sono in grado di anticipare l'esito finale anche se non mancano segnali positivi. Mi riferisco alle significative aperture fatte dal neocommissario designato Avramopoulos nel corso della sua audizione di fronte alle competenti commissioni del Parlamento europeo. Quello che posso garantire è che l'impegno del Governo sarà massimo, la tenacia ci sarà come c'è stata per l'operazione di Frontex, consapevoli tutti che su questo tema si gioca tanto del futuro delle politiche migratorie, non solo del nostro Paese, ma dell'Unione europea. La ringrazio Presidente per il tempo che mi ha concesso e mi scuso per averne abusato, ma ritenevo opportuno provare a dare una risposta esaustiva all'ampio bouquet di quesiti che lei mi ha posto durante la sua premessa. La ringrazio e vi ringrazio.